Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospiti nascosti perché non si vedono Ma ci sono, abbiamo ospiti, un gruppo, un duo, Gate 66 Allora a questo punto la prima domanda che vi faccio e chi mi risponderà Forse basta indicare quel dito A questo punto chi sono i Gate 66 e come li scriveresti oggi per chi vi ascolta? Allora ti risponde Bruno J, cioè io Mi senti bene? Sì Ok perfetto Allora i Gate 66 sono due uomini che provengono dal 2096 Per diverse questioni che se vuoi affrontiamo abbiamo deciso di tornare in questo periodo E abbiamo, conoscevamo e abbiamo poi approfondito stando qui La musica elettronica, l'R&B, il trip hop, anche la new way più vecchia E cerchiamo di fare pezzi che abbiano, che possano piacere alla vostra epoca Questo è, cosa aggiungi stocastico? Stocastico il mio socio? Sì, tutto bene, noi eravamo molto famosi nel 1996, ma siamo dovuti scappare via, avevamo fatto un gran bel successo Però purtroppo gli eventi ci hanno portato a fuggire nel passato, ci danno anche la caccia E per questo è una delle ragioni per la quale non ci possiamo mostrare La polizia temporale ci dà la caccia Se adesso noi ci facciamo vedere nel 2023, loro ci tanano immediatamente Perché ci vedono In questa maniera, questa cosa si può evitare Un altro motivo per cui abbiamo scelto quest'epoca è che ci piace molto, appunto, la musica che ti dicevo prima E nel nostro mondo la musica ormai è realizzata solo dall'intelligenza artificiale E quindi è un processo molto meno creativo di quanto non lo sia adesso e di quanto non lo sia stato nel vostro passato E anche il nostro, però molto più antico Per cui anche per questo abbiamo deciso che gli strumenti e l'ispirazione che potevamo avere qui E quindi era più interessante di quella che avevamo nel nostro presente E a questo punto parliamo del primo brano che ci presentate con una cantante A questo punto la spiegazione un pochettino nasce da quello che avete raccontato Quindi da cosa nasce l'idea di questo singolo ma soprattutto da cosa avete tratto ispirazioni Visto che già conosce tutto del nostro futuro Eh sì, noi non è che riusciamo a vedere tutto esattamente Andiamo sui lunghi distanti, quindi vediamo bene nel 2030, nel 2040 Detto questo, da quello che abbiamo visto nel 2096 abbiamo colto questa cosa Elena Catani, ce l'ha piaciuto molto C'era una vecchia registrazione ai, altre cose Ci siamo detti, la prima persona che dobbiamo contattare per fare una cosa è Elena Catani Perché ci convinceva musicalmente E questa è la ragione Tra le altre cose ci sono, lei che lavora e fa macelli di armonizzazione E' molto entrata nel mondo di questo pezzo E' riuscito a ricalcare molto bene quello che fa Bruno Geni Quindi secondo me viene fuori un bel mood che speriamo che venga apprezzato anche dalla gente E a questo punto, visto che parliamo del 2096 abbiamo detto Lavorare su dati dal vivo, a quei tempi, quel futuro tempo E' simile all'attuale oppure c'è qualche emozione oppure sono un po' più remissivi E' un pochettino più taciti e meno espressivi rispetto all'attuale Ah ma guarda, la situazione nel 2096 è questa La musica è tutta creata dalla E Cioè viene creata le basi, le voci, i canti Poi gli umani vanno a quelli che, se lo possono permettere, vanno a fare i live Dovendo però totalmente fare solo ed esclusivamente quello che è stato creato dalla E Quindi niente più svisamenti, niente più improvvisazione, nulla Si fa quello che è stato scritto prima Questa è la grafica, non c'è la libertà che avete oggi E' molto più brutto E' per questo che siamo scappati via Sì, anche per questo, anche per questo sicuramente Gli strumenti stessi che si usano nel 2096 Sebbene molto più sofisticati di quelli che avete oggi Sono, paradossalmente, impongono molti più limiti alla creatività Gli strumenti grezzi ma ricchi che abbiamo trovato qui Parlo proprio di strumenti elettronici che suoniamo Ci danno molta più possibilità di essere appunto creativi Quindi Elena Catania appunto è stato il primo obiettivo che ci eravamo posti una volta arrivati qui E che già avevamo inquadrato prima del viaggio diciamo E abbiamo visto poi una copertina dove c'è quest'uomo Che è questa persona Che è poggiata su un labirinto Che in realtà cerca forse una via di soluzione Oppure vuole essere rinchiuso direttamente questo labirinto Allora, la canzone parla essenzialmente dell'identità reale e di un'identità desiderata Quindi il labirinto di cui parli tu è un labirinto irrisolto Cioè nel senso non sappiamo se le due identità si ritroveranno C'è sempre questa, come dire, questa lotta affinché l'identità reale coincida con l'identità desiderata Ma non sempre accade Quindi la storia di questa canzone è esattamente questo E il labirinto è proprio questa continua ricerca di questi due motori Di questi due poli L'identità reale e l'identità che uno vorrebbe avere Quello che si cercano e non è detto che si trovino E secondo noi Elena è stata molto brava proprio a recitare il Se vuoi il dolore di questa ricerca E comunque ma anche la voglia di fare questa ricerca E proprio nelle corde che ha usato Noi abbiamo trovato questo e ci è piaciuto molto Sì, sicuramente c'è tanto dolore Questo è andato a tutti Sì, 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 sì Però diciamo che è irrisolto appunto Non c'è un finale scritto Le due identità a volte coincidono Per i momenti piccoli A volte per tutta la vita A volte mai Questa è la storia di queste canzioni Abbiamo visto anche il video di presentazione Il singolo dove effettivamente c'è un'entità Appunto artificiale Dove queste persone, queste immagini Comunque rigirano C'è questa sensazione del reale In artificiale Bravo, esatto Il colpo mi sceglie Esattamente questo Anche se il video Di titolo Il video del brano Non è conoscito Quindi È tutto generato dall'intelligenza specificale No, ma volevo dire questo Che il video che hai visto tu È un promo Sì, io parlo del promo Perché sicuramente Ancora il video ufficiale Non è disponibile Beh, il promo In fondo rappresenta un pochettino Abbiamo detto Il reale Dell'irreale Dell'artificiale Sì, sì, sì Assolutamente Ma guarda Il discorso è questo Negli anni venti Quello che sta succedendo adesso Quello che la gente sta facendo Sui siti Molto È quello di emulare la realtà Cioè far sì Che chi guarda l'immagine Non sia più in grado Di stabilire Se un'immagine reale O è generata Questo è un problema C'è un problema Per chi ce lo vuole vedere Più avanti sarà un problema Esatto Più avanti sarà un problema Diventerà un problema Perché le persone Non sono più in grado Dallo schermo Di percepire Questa cosa E adesso è solamente Una cosa che avviene In fase di registrazione Ma È un attimo Che questa cosa Divenga E diverrà Fatta in tempo reale Cioè che tu Fai Crei un'immagine Statica Un movimento Che non sei più in grado È fantasioso Oppure È drammaticamente reale È già reale adesso Allora aspetta Aspetta I testi Dei nostri brani Fanno molto molto riferimento A questa A questa epoca Ma sono alla vecchia Sono stati creati da noi Questo vuol dire Cioè noi proprio Avevamo Però Però È già ora possibile Andare online Generare Dei testi Automaticamente Scrivendo solamente Il soggetto E nel 2096 Non ci saranno più autori Cioè tutto sarà scritto Solo dall'intelligenza artificiale Anche 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 i testi delle canzoni Come altri testi Che possono essere Romanzi Film Eccetera Già si intravede questa cosa E Alcuni scappano Noi siamo scappati Non siamo gli unici Alcuni Se cercano di ribellarsi Perché chiaramente L'umanità viene Come dire Ridotta E Il modo per Riacquistare questa cosa Per noi musicisti È stato quello Di tornare indietro nel tempo Visto che c'era possibile Anche se vietato E Cercare di 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 lavorare Come Come i musicisti Del 2023 Lavorano Bisogna fare qualcosa Per questa intelligenza artificiale Oppure Comunque Una cosa che Si presenterà Poi successivamente Non possiamo neanche Essere molto Dettagliati Nella critica Perché rischiamo di Alterare il presente Cioè È anche delicato Al di là del fatto Che ci ricercano Per cui dobbiamo Dobbiamo anche stare attenti A questo Poi diciamo che Le informazioni che possiamo dare Sono un pochettino Più generali Detto questo Lo sky net È molto vicino Molto più di quanto La gente si possa Immaginare Perfetto Io Dandomi ringrazio Per la stessa Di ospiti Quindi A questo punto Una domanda Soce spontanea Nel 2096 Chi vince Il campionato? Cos'è Non ciò che Dice Volevo Volevo sapere Almeno così Mi ciò Anche La prospettiva Di realizzare Un guadagno Nel 2096 Per una roba Nel 2096 È molto Molto lungo Ma poi Esisterà La kill Il campionato Di calcio Nel 2096 Chi lo sa C'è 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 Anche Quello Forse Io speravo Di vincere Subito Invece Non mi tocca L'aspettare La preparavo In anticipo Sai Così La lasciamo I posteri Niente Ci ha provato Io Allora Vi ringrazio Essere stati ospiti A questo punto Ci mancano Soltanto Una cosa fondamentale I saluti finali I saluti finali Guarda Per i saluti finali No I saluti finali Cosa vuoi che saluti Noi speriamo Noi siamo scomparsi Non possiamo più salutare nessuno Noi speriamo Siamo accontentati così Da un'altra memoria Quindi non Però speriamo Al momento Non possiamo salutare nessuno Non c'è nessuno Però Grazie comunque Beh salutiamo Elena Se per caso vedrà Ah sì L'ufficio stampa Beh L'ufficio stampa E Ti speriamo Soprattutto Che Questi brani Adesso È uscito questo A gennaio Ne uscirà un secondo E poi E poi altri Speriamo che Siano interessanti Nel futuro Per voi Ragioniamo A lungo termine Noi vediamo appuntamento Del 2096 Alle ore 20 Del 31 gennaio E ci incontreremo Per fare una nuova intervista Ah guarda Molto volentieri Ti aspettiamo Ti aspettiamo Grazie ancora Studio 7 tv E sport picciano game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata Di qui Non hai paura Di me E ci aspettiamo E ci aspettiamo